Spacciava Ascici davanti alla scuola elementare. Lo hanno accertato l'altra sera i carabinieri di Barletta che hanno arrestato un pregiudicato 25enne del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari che da alcuni giorni stavano sorvegliando la scuola elementare di Viale Giannone a Barletta, dopo alcune segnalazioni pervenute al 112 da parte di alcuni cittadini, hanno sorpreso il giovane mentre cedeva tre dosi di Ascici ad uno studente di 17 anni. Il pusher infatti, accortosi dell'arrivo dei militari, ha cercato di sbarazzarsi della droga, gettandola in un'aiuola, ma il gesto non è sfuggito all'attenzione dei carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e recuperato lo stupefacente. Perquisito è stato trovato in possesso di altre due dosi della stessa sostanza e 20 euro. Su disposizione della procura della Repubblica di Trani, il giovane è stato condotto in carcere. Il minore, invece, oltre ad essere affidato ai genitori, è stato segnalato alla locale prefettura quale consumatore di stupefacenti. La droga e il denaro, ritenuto provento dell'illecita attività, sono stati invece sequestrati.